Eccoci! Siamo al quarto esercizio. Oggi è uscita questa frase. Non puoi scoprire nuove terre se non accetti di perdere di vista la riva per qualche tempo. Proviamo a dirla insieme. Io dico un pezzetto e quando faccio così la ripetete voi. Non puoi scoprire nuove terre se non accetti di perdere di vista la riva per qualche tempo. Benissimo! E ora posiamo il libricino. Pugno destro all'altezza del cuore. Mano sinistra. Inne. Sciolgo. È bene che i piedi siano alla stessa larghezza delle spalle. Riscaldo le mani. Riscaldo, 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 riscaldo. Fino a sentire belle calde. Fino a sentirle belle calde. Le appoggio sulle ginocchia. Unisco i piedi. Questa volta le ginocchia devono toccarsi. E comincio a fare dei cerchietti verso destra. Ne contiamo dodici insieme. Uno, due, tre, quattro. Respirando sempre. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Benissimo! Ci fermiamo un attimo. Un bel respiro. E partiamo verso sinistra contando in inglese. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. E togliamo anche dalle ginocchia tutto ciò che non serve loro per stare bene. Facciamo un piccolo massaggino. Portiamo calore a questa parte del corpo così importante che ci permette di saltare, correre, camminare. Un bel respiro. Come ormai sappiamo fare. pugno destro. Mano sinistra. Respiro profondo. Inne.